Amici di Women Volley, rieccomi qui dopo tanto tempo, immagino di esservi mancata da morire, ma mi rifaccio subito, sono in compagnia della grandissima Sara Antonello. Ciao Sara! Ciao! Pace! Ciao cara! Intanto, prima di parlare della partita, ti chiedo subito, che emozione si può essere qui vicino alla VIP? Sono fortuna che non capitano tutti i giorni. Guarda, è un'emozione mi vogliabile, credo che lo ricorderò per tutta la vita a questo momento. E cosa mi dici della partita? Immagino che adesso andrete a festeggiare. No, aspetta, tu, metto a serietà, pseudo. No, adesso, è contenta che abbiamo vinto questo primo set, anche perché ci tenavamo a questa partita di loro. Loro non hanno murato una palla e hanno dimostrato comunque di lottare fino alla fine, meglio che sia finito subito come se. Ecco, però dai, abbiamo visto una squadra. Sì, 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 hanno veramente lottato col cuore, secondo me. Anche secondo me. E te lo ricorda il nostro cartellone l'anno scorso? L'anno scorso l'hai fatta, la ballast. Io te lo auguro anche quest'anno. L'abbiamo comprato, proprio di cuore, perché te lo perso. Aspetta, da studio mi fanno una domanda, c'è Ali Breda che mi fa una domanda, te lo passo direttamente. Pronto? Ciao Sara, come stai? Bene? Guarda che stiamo sempre aspettando l'invito per venire a Jesolo, nella tua grande villa, a mangiare costicine, salsicce e polenta. Mi raccomando, non tradirci anche quest'anno, sai? Ciao, un bacio, un in buca al lupo. Ah, vado? Vado. Niente, sì, facciamo così. Quest'estate ci vediamo in Piazza Milano, dalla Daniela, e ci vediamo uno spritz. E poi andiamo a fare la grillata, dai. Ok? Ciao! Oggi! Ciao, ciao, ciao! Non siamo ancora a fare! Sei una grigia.